Moviamoci! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie! 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 Ehi! Grazie! Grazie! Bersaglio obbedito! Bersaglio perso! Preso! Li abbiamo danneggiati! Centrato! Veicolo nemico distrutto! Ero! Grazie! bel colpo bel colpo corazzato nemico distrutto non lo abbiamo bucato è entrato veicolo nemico distrutto abbiamo un cingolo danneggiato abbiamo un cingolo danneggiato un cingolo pronti a fuoco corazzato nemico danneggiato non lo vedo più corazzato nemico distrutto preso bel colpo bersaglio acquisito li abbiamo danneggiati bersaglio perso beccato agganciato l'abbiamo preso cambio obiettivo centrato preso preso Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.